Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi, come vedete dal titolo, inizia una nuova serie sul canale. Una serie che avevo già pensato all'inizio della stagione, addirittura in estate, solo che non ho potuto farla semplicemente perché l'oggetto con cui devo fare la serie non è uscito fino a pochi giorni fa. Di cosa sto parlando? Beh, vi dice qualcosa questo album? Esatto, l'album Calciatori Panini 2023-2024. Allora, in cosa consiste? L'idea mi è venuta anche grazie a Gaboman, con il suo Fantagabbo. Praticamente, per chi non lo sapesse, è una serie dove con il fratello si sfida. Scelgono cinque giocatori per la giornata di Serie A e usano questi giocatori per vedere chi fa più punti, in base ai bonus e ai malus che suddetto giocatore, suddetti giocatori, ricevono durante la giornata. E io ho pensato a una cosa così, però diversa, in base a quello che troviamo su questi pacchetti figurine dei Calciatori Panini, che così mi incentivo anche a completare l'album, ma anche per divertirmi un po'. E porto anche mio fratello sul canale, che ho detto, con chi lo faccio? Beh sì, con mio fratello facciamo questo gioco, vediamo un po' alla fine della stagione che vince. Purtroppo, praticamente iniziamo a metà campionato, perché siamo alla giornata 16, però l'album è uscito adesso, quindi non potevo farlo prima. Allora, semplicemente noi prendiamo qua una bustina, adesso la spacchetteremo, ci scegliamo appunto 5 giocatori di quelli che arrivano qui, purtroppo nella bustina ce ne sono solo 6 di figurine, quindi nel caso dovremmo magari aprirne più di una ciascuno, perché dobbiamo, devono uscirci 5 giocatori solo della serie A. Non calcolo quelli della serie B, di mezzo poi ci sono anche scudetti, squadre, insomma. Dovremmo spacchettare magari anche più di una bustina e formiamo in base a quello che ci esce la nostra squadra di calcio a 5 e vediamo poi i risultati a fine giornata, chi ha fatto meglio e chi ha fatto peggio, in base appunto ai bonus e ai malus dei giocatori. Ragazzi, sono il Nick del futuro, devo dirvi scusa per una cosa, nel mentre che registravamo proprio lo spacchettamento per vedere che carte ci uscivano, a quanto pare ho avuto un problema con il telefono e non mi ha registrato quella parte. Dalla prossima puntata risolveremo il problema. Comunque vi mostro indifferita, diciamo, quello che avevamo trovato, che appunto dopo nell'altro pezzo del video avevamo scritto la squadra. Allora io ho trovato Shomurodov, Sottil, Aaron Martin Lucas Beltran questa è in più Milan Badel e Fabio Miretti mentre mio fratello aveva trovato Lorenzo Lucca Patrick Patrick John Lucumi Davide Frattesi Marco Carnesecchi HealthAid Is Usai e Daniele Padelli Ora vi lascio al resto del video chiedo ancora scusa. Allora ragazzi lui ha anche trovato un portiere anzi due quindi nel caso avrà la possibilità di avere come bonus l'imbattibilità. Io non ho avuto il portiere ma poco importa. Alla fine in base ai bonus e ai malus vediamo chi ha fatto più punti. Quindi ora leggi la tua formazione Carnesecchi Lucumi Ciuria Frattesi Luca In panchina Padella Padelli Padelli Isai Io ho Martin Kamada Miretti Shomurodov Sottil e in panchina Beltran e Badel quindi se qualche giocatore nostro non dovesse giocare possono subentrare quelli in più che abbiamo trovato per esempio da lui Padelli e Isai da me Beltran e Badel e vediamo chi ha fatto più punti vi diciamo ovviamente i risultati in un prossimo video probabilmente quindi martedì martedì perché lunedì finirà la giornata 16 di campionato e vediamo chi ha fatto più punti alla fine del campionato di Serie A vedremo chi ha vinto tra me e te sì ok saluta ciao mettete mi piace un commento condividete il video andrà a rimanere i baci e iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i social ciao a tutti ragazzi ciao ciao